Ci sentiamo, ci siamo incontrati anche contro il Liverpool quest'anno, abbiamo parlato un po' e niente, sì, ovvero, abbiamo avuto l'esploit insieme, ha avuto un po' di problemi, però questo è il passato poi Mario sicuramente saprà reagire, è un giocatore forte, quindi niente, sarà lui poi dimostrare è sempre il campo che parla fuori, puoi parlare, parlare, però alla fine è quello che fa in campo che è quella la cosa decisiva. Non te lo rivedi in Italia una terza volta? Ma non lo so, non sono un direttore sportivo, non un procuratore, quindi questo non te lo posso dire, sarà lui la scelta, se tornare in Italia o star là.